Lo stallo prima della settimana che porterà alla pronuncia del collegio di garanzia a Coni. È un'estate lunghissima quella del Teramo a tratti estenuante perché di calcio finora non si è parlato neppure lontanamente. Indice di liquidità, rateizzazione dei versamenti IVA dovuti, sblocco delle quote, il vocabolario della calda stagione bianco-rossa è diventato di tutt'altro tenore. Nel frattempo c'è chi si è a casa e chi ancora attende. I protagonisti di un'annata complicata ma risolta con la salvezza sembrano ormai lontani e perduti nel tempo e di quello organico rimane poco o nulla. Dire se e quando si potrà ricominciare a parlare di mercato, ritiri estivo e primi impegni ufficiali non è semplice perché la quotidianità è fatta di assemblee dei soci, aspettative per procedure che devono andare in un certo modo e la costante sensazione che l'ultimo passaggio della giustizia sportiva, che dovrebbe arrivare tra venerdì e lunedì, non sarà comunque l'atto conclusivo della vicenda. Intanto la Lega Pro ha confermato nuovamente il taglio orizzontale dei raggruppamenti A, B e C. Per il momento il diavolo, almeno stando alle decisioni del Consiglio federale, non sarebbe in nessuno dei tre. L'amministratore unico Massimo Chierchia ieri in assemblea ha rassegnato quelle dimissioni che avrebbe presentato anche lo scorso 1 luglio, a poche ore dalla decisione della Covizoc, che di fatto è stromesso il teramo dal calcio professionistico. Lo ha fatto ieri anche se resterà in carica fino all'ormai prossimo provvedimento del giudice e quindi alla prima assemblea successiva al provvedimento che nominerà un nuovo amministratore. Per quanto riguarda le quote societarie e l'istanza presentata giorni fa da Davide Ciaccia, dovrebbe vedere il risponso tra oggi e domani, passaggio fondamentale, almeno secondo i legali della DCF Sport Legal, che sull'impossibilità di agire in maniera totalmente libera da parte del teramo ha fondato l'intera difesa. Tradotto, se sbloccate le quote e ci date la possibilità di integrare la domanda incompleta presentata lo scorso 22 giugno, ripieniamo quanto serve, cedendo, mettendo mano al portafoglio e sistemiamo le cose. Non sarà così semplice, però, la questione relativa all'impossibilità da parte della società di revisione di esprimere una conclusione sulla possibilità di Teramo Calcio e di proseguire la propria attività e la carenza patrimoniale molto marcata, oltre alla questione IVA, sono macigni da provare a ribaltare. E intanto, a metà luglio, di calcio non si è ancora parlato nulla di nulla, per quanto ragionevolmente potrà durare e fino a quando si giocherà sul tavolo della giustizia lasciando che il calcio scorra per tutte le altre, tranne che per il diavolo?